Ciao a tutti, sono Serena, una volontaria di Avvocato di Strada. Adesso vi spiegherò che cosa potrebbe succedere qualora le forze dell'ordine durante dei controlli dovessero fermarvi e dovessero ritenere non valida la ragione e il motivo per il quale vi trovate in giro. Dal 25 marzo è prevista l'applicazione di una sanzione, il cui valore va dai 400 ai 3000 euro. E' possibile mantenere l'importo della sanzione al minimo, quindi 400 euro, se la si paga entro 60 giorni dalla notifica. Se il pagamento avviene entro 5 giorni è addirittura possibile ottenere un ulteriore sconto del 30% e quindi pagare una sanzione del valore di 280 euro, anziché 400. Quindi nel caso invece di soggetti che abbiano trasgredito le regole della quarantena in una data precedente al 25 marzo, il nuovo decreto prevede l'eliminazione degli effetti penali, quindi delle conseguenze penali, e il semplice pagamento di una sanzione di 200 euro. Più gravi sono invece i casi in cui un soggetto cosciente di avere il virus venga trovato comunque per strada o, ancora peggio, qualora dovesse contagiare altre persone. In questi due casi è previsto l'arresto, addirittura l'arresto del soggetto. Come interveniamo noi volontari di avvocato di strada? Qualora doveste prendere una sanzione, i nostri avvocati possono aiutarvi, verificata appunto la sussistenza delle condizioni, a presentare un ricorso. È necessario però che chi riceva appunto questa sanzione la conservi o comunque ne faccia una copia, perché si tratta di un documento indispensabile per poter procedere al ricorso. Detto questo, vi saluto e teniamo duro.